Mamma mia, mamma mia, che partita, che spettacolo, questo è calcio, l'essenza del calcio, Barcellona, Bayern di Monaco, mamma mia, mamma mia, che partita, e non era tennis! Benvenuti in questo nuovo video, bentornati sul canale, ragazzi, sta per finire la partita, Barcellona-Bayern di Monaco, quarti di finale di Champions League, partita tennistica! Solo nel primo tempo, pensate bene, cinque gol, grande Bayern, una mentalità ormai acquisita, una super squadra, probabilmente la più forte, si candida ufficialmente alla vittoria finale, Barcellona annichilito, Bayern di Monaco che ha fatto quello che gli pareva, Barcellona completamente allo sbando, una difesa imbarazzante, una vera e propria battosta, Lenglet e Piqué sembravano veramente due pivellini, presi completamente in giro, ridicolizzati dal centrocampo e dall'attacco del Bayern di Monaco. Nel primo tempo apre le marcature Müller, già solo dopo quattro minuti, gran gol di Müller, assist di Lewandowski, poi c'è questo autogol tre minuti più tardi, minuto sette, autogol di Alaba, Bayern di Monaco, un gol dietro l'altro, ha meritato di passare il turno. 1-2 firmato Perisic, al minuto 22, minuto 28, gol di Gnabry, gran bel giocatore questo qui, alla mezz'ora arriva l'1-4 di Müller, gran partita anche quella di Müller. Kimmich che fa l'assist, gran gol, 1-4 primo tempo, Barcellona che non ci capisce niente, nel secondo tempo entra anche Gretzmann, entra Fatih, ma niente da fare, brutto Barcellona, una stagione da dimenticare. gol di Suarez al minuto 57, 2-4, ma sul finale nuovamente Bayern di Monaco, gol di Kimmich, minuto 63, gol di Lewandowski, strameritato, gol al minuto 82, assist di Coutinho, Coutinho che poi regala anche la doppietta, minuto 85, gol bellissimo, Coutinho che si ripete al minuto 89, partita incredibile, Bayern di Monaco favorito per la vittoria finale, tedeschi in formissima, super squadra, brutta partita per il Barça, una lezione di calcio, Barcellona umiliato, non ci sono parole, partita spettacolare del Bayern, calcio champagne, super centrocampo, attacco cinico, gran bella difesa, una squadra equilibrata, ma che fa anche spettacolo. Barcellona 2, Bayern di Monaco 8, per quest'oggi era tutto, ragazzi, se vi è piaciuto il video pollice in su, qui in basso, se vi fa piacere cliccate, iscriviti, condividete questo video nelle vostre pagine social, nel mio infobox, le mie pagine Twitter, Instagram e Telegram, è sempre gradito, un bel commento, ditemi la vostra su questa partita spettacolare, attivate la campanella, ci si vede al prossimo video, bless!